Oggi nel menù di My Personal Trainer c'è una ricettina in pieno stile autunnale, ovvero uno strudel salato. Ma non è un banale strudel preparato né con la pasta a sfoglia né con la pasta povera tipica per strudel. In alternativa a queste particolari basi utilizzeremo una speciale base di patate che farceremo con zucca e ricotta al profumo di rosmarino. Rimanete insieme a me! Iniziamo con la preparazione dello strudel, però andiamo a ritroso, ovvero prepariamo per prima la farcitura a base di zucca e ricotta. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono già portata avanti un pochino, ho tagliato per bene la zucca, ho ricavato solo la polpa eliminando i fili di semini interni, l'ho ridotta a dadini e l'ho versata, l'ho raccolta in una casseruola senza aggiungere nient'altro. Intanto l'ho lasciata passire, sono passati circa 5 minuti. A questo punto possiamo alzare la fiamma, versiamo il latte che sono circa 100 ml, mezzo bicchiere, e continuiamo la cottura fino a ridurla quasi in purea, vedete? Questa zucca è una varietà delica, che è secondo me fantastica per questo genere di preparazioni, una zucca molto dolce che impiega anche poco tempo, relativamente poco, insomma per cuocere. Aggiustiamo di sale, pepe indispensabile, mescoliamo, copriamo con il coperchio, manteniamo una fiamma piuttosto bassa e continuiamo pian piano la cottura. Intanto, finché la zucca termina la cottura, ci dedichiamo alla preparazione della base del nostro pseudo strudel. Anche qui mi sono portata avanti, ho già lessato le patate con la buccia per circa 45-50 minuti, i tempi di cottura, a partire da acqua fredda, ecco, i tempi di cottura dipendono dalla grandezza, quindi dalla pezzatura delle patate, anche ovviamente dal tipo di patata che avete scelto. Le ho lessate, adesso sono ancora molto calde, dobbiamo ridurle in purea. Come si fa? Facile, facile, con uno schiacciapatate, per evitare di sbucciarle e anche di ustionarci, le tagliamo a metà. Le mettiamo all'interno dello schiacciapatate con la parte tagliata rivolta verso il basso, così, in modo che la buccia rimanga intrappolata all'interno. Ho utilizzato un tipo di patate pasta bianca, ve le consiglio perché sono più farinose. Procediamo in questo modo, eliminando la buccia, vedete che si toglie molto facilmente man mano che si pressano le patate. Una volta ottenuta la purea, aromatizziamo con abbondante noce moscata, il sale fino, io non ho salato l'acqua delle patate, quindi un cucchiaino colmo, praticamente da caffè di sale fino, sono circa 6 grammi. Aggiungiamo un po' di farina per volta, circa 170 grammi per questa dose. Poi le dosi sono approssimative perché dipende anche da quanta acqua hanno assorbito le patate e dal tipo ovvio di patate. Aggiungiamo un uovo. Questa ricetta l'ho provata solamente con l'uovo, quindi non saprei darvi alcune alternative senza uova. Poi se volete fare degli esperimenti a casa, ben venga, magari fatemi sapere. Mescoliamo bene fino ad ottenere una consistenza che ricorda moltissimo quella degli gnocchi di patate tradizionali. Ci siamo! Questa è la consistenza che abbiamo ottenuto. Deve essere leggermente appiccicosa, proprio appena appena. Adesso però ci spostiamo all'interno della casseruola. Ho alzato leggermente la fiamma in modo da eliminare il latte in eccesso. Vedete, questa è la densità corretta per la nostra crema di zucca. Adesso stendiamo l'impasto. Ho preso un foglio di carta forno, ci ho messo un po' di olio, ci ungiamo bene le mani. Come avrete potuto notare, non ho messo né olio né burro all'interno dell'impasto di patate perché ci servirà solo per stendere, diciamo, vedete. Appoggiamo sul foglio di carta forno, versiamo pure l'olio e lo allarghiamo con le mani fino ad ottenere un rettangolo dalle dimensioni approssimative, insomma, di 20x30. Sentite che il forno ha anche raggiunto la giusta temperatura. A questo punto farciamo con la crema di zucca e poi metteremo dei fiocchetti di ricotta, del grana grattugiato e un po' di rosmarino tentato. Ora arrotoliamo a partire dal lato corto aiutandoci sempre con la carta forno, così. L'ultimo pezzo lo incolliamo stringendo la base di patate. Ora trasferiamo il tutto all'interno di una teglia dalle giuste dimensioni circa 20x30, insomma. Potete anche metterlo sulla lecarda se non avete questa teglia. Cospergiamo con un cucchiaio di grana grattugiato, così. Lo distribuiamo bene, lo facciamo aderire. Sigilliamo lo strudel, così. E cuciniamo in forno già caldo 200 gradi per circa 30 minuti. 10 minuti prima del termine della cottura ci ricordiamo di rimuovere la carta forno in modo da creare una bella costecina superficiale. Eccolo qui il nostro strudel bellissimo. tagliatelo da freddo o da tiepido in modo che le fette rimangano perfette come con lo strudel normale. Eventualmente lo riscaldiamo in un secondo momento così faremo anche un bel figurone quando lo portiamo a tavola. Vi faccio vedere com'è il risultato finale. Così notate anche la consistenza. Eccolo qui. E possiamo disporre le fette su un bel tagliere e poi lo portiamo in tavola. Buon appetito da Alice e My Personal Trainer. Ricordate di mettere un bel like e quindi pollice in su se vi è piaciuto il video.